Allora, ci siamo spostati in un altro settore, parliamo di questa favolosa razza? Allora, stiamo parlando del panoel nano continentale, siamo con la lavatrice di questi cani, lei è Igle e alleva ormai da parecchio tempo in Italia seguendo dei canoni di qualità e di ufficialità, quindi testando i propri soggetti e stando molto attento ai soggetti, praticamente ai riproduttori che scegli, quindi ai genitori dei cani che noi abbiamo in braccio. La varietà è una razza a sé, si è la varietà di papillon, notate come queste orecchie sono erette, ne esiste anche un'altra varietà che è razza a sé, che è falenne invece, è una razza che ha origini che si perdono già nel periodo del rinascimento in Italia e anche nel periodo dei pittori fiamminghi. Si notate in alcuni quadri, in alcuni dipinti dell'epoca, ci sono questi piccoli cani dal pelo spesso e volentieri simili a quelli di oggi che sono riportati in braccio a delle dame o nelle famiglie nobili. C'è da dire che questi cani hanno una storia molto particolare perché sono la variante da compagnia dei invece più famosi spaniel utilizzati per attività venatorie, quindi i mariti andavano fuori a divertirsi con i cani più grandi, le mogli stavano in casa nei salotti con questi piccoli cani da compagnia. Si chiamano papillon e falenne perché molto è l'aspetto di questi cani. Se notate queste grosse orecchie con questa pezzatura che viene divisa da una lista bianca, permette di avere quasi un'idea di vedere una farfalla, se notate. Ne esiste anche una varietà, farfalla diurna, ne esiste anche invece una varietà con le orecchie che sono invece cadenti che appunto ricorda una farfalla con orecchie chiuse, più nello specifico una falenne, quindi una farfalla notturna la falena. Sono cani molto particolari perché anche se sono piccoli non tendono ad avere quella disposizione di iperattività e soprattutto sono cani adatti alla famiglia. C'è da smentire una piccola cosa parlando di cani piccoli e la levatrice mi confermerà, non è detto sempre che cani piccoli vanno bene con bambini piccoli, bisogna stare molto attenti, anzi l'equazione corretta sarebbe cani medio-grandi con bambini perché ci possono essere le eccezioni perché ovviamente se uno ha i cani piccoli in casa e nascono i bambini i propri figli si abitueranno a convivere con questi cani e questi cani si abitueranno a convivere con i bambini, però stiamo molto attenti perché purtroppo molto spesso viene fatta questa associazione che non è corretta per una serie di cose che riguardano il comportamento dei bambini e il comportamento dei cani perché sono cani anche molto delicati, più o meno possono pesare intorno ai 2,5-3 kg all'incirca quindi non sono cani grandi e hanno bisogno anche di attenzioni particolari, quindi un bambino che strilla, che urla, che ha una manualità un po' troppo manesca potrebbe interferire con l'equilibrio del cane. Egle, perché ti sei innamorata proprio di questi esemplari? È stata proprio una casualità perché stavo cercando un cane piccolo per tenere in casa, non trovavo quello che mi piaceva e per puro caso ho trovato questa foto qui, si trattava di un cucciolo di purtroppo ormai un allevamento di Genova non esistente più perché signora non alleva più, siamo andati a vederlo e guarda caso abbiamo portato a casa, poi da uno è arrivato secondo, terzo non ci siamo poi fermati più. Grazie a tutti.